Con un tiro in sospensione, il sindaco Edoardo Mazza ha aperto il nuovo campo da basket alla porada. Una macchia azzurra nel verde del parco 2 giugno, per tutti gli appassionati di pallacanestro o di street basket, 3 contro 3 ad un canestro unico, come nei playground di New York. I decini di bambini e ragazzi, pochi minuti dopo aver tolto la rete del cantiere, hanno iniziato a sfidarsi a colpi e tiri da 3 e stoppate, sognando di essere Michael Jordan o Kobe Bryant. 35 mila euro l'investimento per la costruzione del campo da basket, predisposto anche per la pallavolo. E sempre alla porada, in questi giorni, operaia lavoro per sostituire le strutture del percorso vita, una plaestra nel verde del parco 2 giugno, che consente a moltissime persone, giovani e meno giovani, di allenarsi ogni giorno a contatto con la natura. Le vecchie postazioni in legno, ormai rovinate, saranno sostituite da 3 innovative strutture in acciaio zincato. Grazie a tutti.